L'indifferenza, entità attraverso Corrado Piancastelli, l'inerzia, l'indifferenza. Sono queste le peggiori colpe di uno spirito, sicché noi possiamo vedere un essere che durante la vita non ha fatto assolutamente niente, né di bene né di male, e lo si può considerare a giusta ragione un essere che è in colpa, cioè dire un essere che ha sbagliato, perché l'errore non sta soltanto nel compiere un'azione antisociale, quanto anche nel non promuovere azioni positive. È un po' la questione del bene e del male. Non è una necessità talvolta evitare il male, deve diventare una necessità imporre il bene. E così si può essere chiamati a rispondere anche del bene che si poteva fare e non si è fatto. Questo concetto è fondamentale nel giudizio dello spirito, perché quando sarete morti, quando abbandonerete il vostro corpo, non sarà fatta un'analisi tanto minuziosa delle vostre giornate o della vostra vita. Quando cioè avverrà una valutazione globale del comportamento generale, prescindendo dalle applicazioni particolari, e cioè nella maniera con cui avete condotto la vostra esistenza e come siete riusciti attraverso la materia ad assumere certe esperienze proprie della materialità, ma sapendole trasformare in esperienze di tipo mentale. Per esempio, una persona che soffre, che è malata, o soffre per altre ragioni di tipo sociale, di tipo economico, di tipo familiare. Ebbene, questa esperienza, che talvolta può durare tutta una vita, può non avere alcun valore di carattere spirituale. Se l'essere non è riuscito a trasferire su un piano mentale questa propria vita di dolore, cioè ad operare una vera e propria trasferenza, a travalicare, al di là del puro dato materiale dell'esperienza, per giungere ad una partecipazione interiore della sua esistenza. Perché lo spirito, per quanto sia occupato quasi totalmente, o ostacolato quasi totalmente dalla materia, ha una sola possibilità di rendere utile la sua vita, cioè quella di operare attraverso il lavoro della mente e, attraverso la giusta ispirazione che può nascere dal suo rapporto con la mente, di operare una trasformazione dell'esperienza. Grazie.